La festività in onore di San Donato è una tra le più sentite a San Pietro in valle, una ricorrenza che tutti portano nel cuore, da più anziani ai più piccoli, già pronti a raccogliere una tradizione che a loro volta tramanderanno ai loro figli. Un crescendo di emozione e di entusiasmo a partire dalla deposizione della corona di alloro ai piedi del monumento e caduti, per poi passare alla Santa Messa. Una ricorrenza sentita e partecipata da tutta la comunità. Sì, San Donato è il patrono di questa comunità di fede ed è bello anche sentirsi protetti e anche stimolati, motivati da questo santo che essendo martire, quindi testimone fino a dare la propria vita per Gesù, diventa veramente un motivatore per la nostra fede. Una festa il cui aspetto religioso è condiviso e tanto atteso, dalla funzione liturgica alla distribuzione del pane, fino alla processione per le strade della frazione frosolonese. Allora, questo giorno per gli abitanti di San Pietro in valle è una cosa veramente significativa, perché ci tengono tanto, è stata sempre una festa molto sentita, proprio una cosa, diciamo, bellissima, che vengono pure tante da fuori, dal Canada, insomma, da Roma, dalla Svizzera, insomma, da tutte le parti, perché è proprio una festa che ci teniamo tanto. Una festa, quella di San Donato, che omaggia nel ricordo e nella preghiera anche i caduti delle guerre. Un'altra cosa molto significativa che fa onore ai cittadini di San Pietro in valle è ricordare nella festività più importante per loro i nostri caduti che hanno dato la loro vita per permetterci oggi di vivere così in democrazia e soprattutto per augurarci sempre più un futuro di pace e ricordarci che le guerre non è sicuramente una cosa bella.